Il più cordiale e ben interconnessi giunge a tutti quanti voi da parte mia Roberto De Angelis, un avviso che ci proviene da Notizie Adventiste e dal nostro sito di riferimento opmedia.it scritto op con l'h davanti media.it. Il 19 dicembre, quindi domani alle ore 11, la Chiesa Cristiana Adventista di Cesena, in collaborazione con la rivista Un'altra Prospettiva, offrirà un momento di riflessione sul messaggio del Natale. Saranno i pastori Paolo Benini e Roberto Iannò a guidare nella comprensione del Dio che si è fatto uomo e ha abitato per un tempo in mezzo a noi. L'appuntamento di domani avrà per argomento Natale, ritorno al futuro. Gli incontri si terranno in via Gadda 300 a Cesena. Per informazioni cesena-avventista.it. Quindi ve lo ricordo ancora una volta, presso via Gadda 300 a Cesena si terrà l'incontro Natale, ritorno al futuro, a cura della Chiesa Cristiana Adventista del settimo giorno di Cesena. Sarà in collaborazione con la rivista Un'altra Prospettiva e tutto questo servirà a guidare nella comprensione del Dio che si è fatto uomo e abitato per un tempo in mezzo a noi. Naturalmente vi invito a partecipare, compatti e numerosi, se siete di quella zona, oppure a vedere come ci si può collegare per ascoltare questo Gesù previsto da altri mondi e Natale, ritorno al futuro. Gesù previsto da altri mondi c'è stato il 12 dicembre, domani invece 19 dicembre ci sarà Natale, ritorno al futuro. Per maggiori informazioni cesena-avventista.it. Vi saluto, buon sabato a tutti quanti e noi ci risentiamo al prossimo appuntamento.